Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È partita da San Benedetto del Tronto la serie di incontri di società autostrade per l'ascolto dei bisogni dei territori. E non è un caso. La città si trova a metà strada tra Marche e Abruzzo, le due regioni che negli ultimi anni hanno più sofferto dei disagi al traffico, dovuto ai lavori di ammodernamento alle gallerie e alle barriere che erano state poste sotto sequestro. A fare gli onori di casa al Palariviera è stato il sindaco Antonio Spazzafumo, mentre dal tavolo dei relatori i vertici di autostrade hanno spiegato il piano dei lavori a breve e lungo termine. In primis lo stop a cantieri in corso nel ponte del 2 giugno e poi dal 24 giugno al 6 settembre. Noi abbiamo un'attenzione particolare chiaramente all'utenza, vogliamo fare in modo che l'utenza sia quanto meno possibile disturbata dalle nostre cantierizzazioni, lo facciamo normalmente durante le settimane, lo facciamo a maggior ragione, in presenza dei ponti come il 2 giugno e delle ferie come il ponte estivo. In estate i lavori continueranno però di notte? No, alcune cose le tenteremo di fare di notte, chiaramente di giorno sarà tutto libero e tutto scorrevole. I cantieri termineranno poi nel 2024, ma tirato un sospiro di sollievo per la sospensione dei lavori durante l'esodo estivo, i governatori di Marche Abruzzo, Acquaroli e Marsilio guardano oltre e chiedono tempi certi e celeri anche per la terza corsia da Porto Sant'Elpidio a Pescara. Il potenziamento della rete adriatica autostradale è un nostro obiettivo e credo che sia un obiettivo per tutti i territori del centro Italia nella rivera adriatica. È un'opportunità di sviluppo ma è anche un servizio migliore per tutta la mobilità che si sposta per lavoro, per necessità, anche per i servizi sanitari. Quindi credo che il rapporto con l'autostrada e il rapporto tra regioni debba servire a dare delle risposte giuste e in tempi rapidi. La terza corsia io la considero un progetto fondamentale perché è inutile discutere dell'ammodernamento di questa arteria quando è ormai palese che è sottodimensionata rispetto alle esigenze di traffico che ne dicano spesso e volentieri i tecnici di autostrade è evidente che basta un piccolo rallentamento, un piccolo intoppo e si creano decine di chilometri di coda. Il risultato di un'arteria vecchia è superata. Un anno fa quando abbiamo discusso dei lavori in corso sull'autostrada ci è stato presentato una prima bozza di progetto per portare la terza corsia almeno fino a Pescara in questa prima fase. Chiederò conto anche approfittando di questa seduta per capire se quel progetto è rimasto nel cassetto o se Autostrade per l'Italia sta prendendo sul serio la spinta dei territori e anche l'indirizzo che gli dia del Ministero di andare avanti su questa progettazione e di inserirla nel loro piano delle opere. Mentre per il tratto Fermano fino a Pedaso c'è da rispolverare un vecchio progetto per il Piciano e l'Abruzzo si viaggia ancora nel campo delle ipotesi. La tratta, questa tratta è una tratta particolarmente densa di opere d'arte quindi ci sono un gran numero di gallerie e un gran numero di ponti e viadotti che evidentemente quando si tratta di ampliare l'autostrada pongono un tema in termini di rifacimento e ampliamento delle stesse quindi la cosa che viene più logico pensare è un ampliamento fuori sede. Oggi faremo vedere queste ipotesi sul tavolo al momento che sono ipotesi di larga massima che poi andranno approfondite con studi di dettaglio che poi ne confermino la fattibilità.